la francia oggi paese che può vantare ancora una sua grandezza o come dicono i francesi grandeur o potenza sopravvalutata salve amici di ibex edizioni io sono alessio mannino con questo approfondimento che fa parte di un filone di di focus che stiamo facendo sul potere partire dal libro potere omonimo appunto potere di guglielmo ferrero oggi parliamo di francia e lo facciamo con giacomo gabellini ciao giacomo grazie per l'invito come sempre giacomo ormai lo conoscete ibex diciamo è uno dei più lucidi analisti di geopolitica e politica internazionale che nel panno nell'attuale panorama italiano i suoi libri anche personalmente li trovo della specie di manuali per orientarmi nel presente sempre ovviamente a partire dal passato così come dovrebbe essere ma dicevo della francia allora la francia io partirei dall'attualità dalla stretta attualità qui abbiamo visto una mossa del cavallo forse non so se finila così del presidente francese emmanuel macron che dopo l'europea visti i risultati a lui pesantemente sfavorevoli ha deciso di rovesciare il banco e andare a elezioni anticipate perché perché può farlo perché nel sistema francese che è un semipresidenzialismo il suo potere di presidente glielo consente ecco e qui arriviamo appunto al punto del potere cioè la francia di oggi come si sta evolvendo da questo punto di vista faccio solo dei flash e poi lascio la parola a giacomo parlo di sistema di potere nella sua concretezza non quello istituzionale cioè chi comanda questa è un po la domanda il fil rouge c'è un macron appunto che potremmo dire elite pura ha lavorato per la rothschild ha fatto le scuole alte come si dice cioè rappresenta un mondo un mondo elitario nel senso proprio più classista del termine cito un altro nome che forse meno conosciuto che vincent bollo re di vivandi che è un imprenditore che un imprenditore molto molto potente molto influente che anche noi in italia conosciamo ehm che pare essere lo sponsor di questo nuovo questa nuova alleanza di tutte le destre cioè rassemblement nazionale che è l'erede del front nazionale le pen con i gollisti quello che è rimasto insomma del vecchio gollismo poi c'era le pen appunto che manda avanti questo giordano bardellà giovane telegenico insomma molto così eh adatto a tempi di di social eh direi io per infrangere il frontismo la diga repubblicana che noi in italia chiameremo antifascista eh cioè cercare di andare oltre eh questa convenza d'escludendum eh che una volta noi conoscevamo il movimento sociale e che in Francia c'è ancora per lo meno retoricamente verso eh i le penisti ecco eh a te Giacomo mh la situazione interna francese poi andremo a quella esterna ovviamente ehm come ti sembra quello di un paese che ha mh come posso dire che ha ancora delle carte da da giocare e può essere un modello come è stato negli ultimi due secoli eh la Francia è stato un modello culturale politico per per molto tempo o diciamo è un paese come dicevo nell'introduzione sopravvalutato è una bomba orologeria secondo me è un paese che ha dentro ha collocato alle proprie fondamenta una un detonatore che potrebbe esplodere da un momento all'altro perché è un paese che paga il proprio passato coloniale in maniera durissima pesantissima eh errori strategici compiuti decenni fa adesso presentano il conto noi adesso vediamo che le periferie francesi politica di ghettizzazione di queste persone di queste persone che sono cittadini francesi a tutti i livelli ma sono di origini magrebine molti molti casi provengono dalle ex colonie francesi che però odiano il loro paese odiano le istituzioni del paese in cui in cui hanno la cittadinanza rifiutano le istituzioni di questo paese non mandano i figli a scuola eh vivono in come dicevo in quartieri pressoché riservati soltanto a loro dove la polizia non entra se non in assetto antisommos eccetera 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 e sono milioni sono milioni ai margini della società senza alcuna prospettiva davanti a sé con un disagio montante che ogni tanto esplode come le rivolte delle banlie che ci sono ogni tanto ricordiamo quella del 2005 eh che è passata è passata diciamo alla storia ma fu anticipata da per esempio da un bellissimo film l'odio di Mattia Cassovizzi di dieci anni prima che proprio prevede cioè forniva uno spaccato lucidissimo su quella che era diventata la società la società francese quindi con dei problemi che già negli anni 90 stavano manifestandosi in maniera molto molto evidente agli occhi di eh un un artista attento come Mattia Cassovizzi la situazione da allora non è andata è andata soltanto peggiorando perché il piglio colonialista francese è rimasto è rimasto sostanzialmente intatto la Francia è l'unico paese da avere ancora una moneta coloniale che il franco CFA verso da una serie di paesi dell'Africa occidentale che Parigi continua a percepire come cortile di casa e questo naturalmente provoca tutta una serie di di contraccolpi noi vediamo che il potere continua ad essere appannaggio di una classe dirigente che viene formata all'interno delle burocrazie pubbliche che è quello il vero stato profondo francese la Francia per esempio è un paese che ha e in cui lo stato gestisce per esempio anche buona parte dell'economia privata i gestori delle grandi società francesi sono quasi sempre dei burocrati che hanno trascorso la loro le fasi iniziali della propria carriera all'interno degli apparati statali e poi vengono trasmessi vengono trasposti all'interno di queste società che hanno con lo stato centrale di un legame simbiotico noi abbiamo visto per esempio che questo legame scatta ogni qual volta si presenta la possibilità che un'azienda francese passi in mano straniere cantieri di Saint-Nasar ricordiamo che i cantieri fu sul punto di rilevarli fu lo stato francese che intervenne bloccando l'affare adducendo motivazioni strategiche strategiche entrò nel capitale di questa di questa società mantenendola sostanzialmente in mano francese questa è sempre stata la forza della finanza privata collegata a quella pubblica con per esempio penetrazione del capitale francese in Italia che sono palesi sappiamo tutte la grande distribuzione in Italia è stata proprio letteralmente terreno di caccia terreno di caccia francese da parecchio tempo a questa parte e capacità comunque di raccogliere i capitali attraverso alcuni grandi fondi anch'essi legati come a mondi per esempio legati al potere centrale francese e soprattutto una non comune capacità di cooptare nella propria classe dirigente personalità stranire pensiamo ricoletta per dirne uno che ha presentato alla commissione europea un piano che prevedeva proprio la riorganizzazione della finanza della finanza europea per attraverso un sistema dei fondi cioè fare creare dei fondi europei il modello che era quello di Amundi chiaramente che portassero alla privatizzazione del risparmio dei sistemi di risparmio europei e li affidassero a questo genere di entità giudicate come i migliori migliori canali per canalizzare per diciamo convogliare il risparmio europeo verso il finanziamento dei settori d'avanguardia quindi era un po' questo il discorso e non è stato presentato da un francese ma da un italiano questo piano ma un italiano che come sappiamo ha degli strettissimi legami con la Francia Enrico Letto è solo un esempio ce ne sono tanti che debbiano a quel ruolo quindi la Francia ha sempre avuto questa capacità per cui ha una margine di manovra piuttosto ampio in termini diciamo di condizionamento anche delle politiche dei paesi vicini ma è costretta sempre a guardare il proprio al proprio interno perché come dicevo al di là di quel fenomeno di quella quel bombone che sta crescendo rappresentato da questi da questi cittadini francesi che non si riconoscono più come tali c'è una un crescente malcontento che è dovuto anche alla all'impoverimento graduale della popolazione che sta come al solito agitando le masse francesi noi abbiamo visto che da dai gile gialli che hanno per questioni formalmente legate all'aumento delle accise sui carburanti è sorto un movimento di contestazione che per settimana per mesi mesi e mesi ogni sabato metteva per tutte le città francesi metteva in discussione l'autorità del presidente questo è stato qualcosa poi c'è stato per la riforma delle pensioni stesso fenomeno questa sono una un tratto caratteristico della popolazione francese che risale alla sua tradizionale fierezza diciamo il popolo rivoluzionario per eccellenza questo è un dato che ancora persiste però si è assistito a una capacità di addomesticamento di queste pulsioni non comune e per esempio c'è stata sempre la possibilità che questo malcontento venisse cavalcato dal cosiddetto partito antisistema che era quello di Jean-Marie Le Pen il front nazionale e fino ad allora è sempre stato il discorso di si arrivava magari un ballottaggio in cui magari Le Pen riusciva ad ottenere il successo rispetto ai partiti gollisti e quindi si arrivava al renderazione con i socialisti ma poi arrivava sempre il solito discorso del del fatto che non possiamo consentire un fascista di arrivare al governo e quindi anche tutti gli altri partiti votavano per anche magari persone di destra votavano per i socialisti soltanto per impedire la potere di di Jean-Marie Le Pen lo stesso fenomeno si è assistito nei confronti di sua figlia che ha temperato gli lati più diciamo chiamiamoli impresentabili del front nazionale e ha un po' edulcorati ma ha mantenuto un certo piglio di diciamo di di contestazione rispetto alle linee generali che venivano invece sposate tanto dai gollisti quanto dai socialisti e questo fenomeno si è come detto replicato è stato addirittura la figura di Macron nasce proprio da questo cioè non possiamo siccome i socialisti ormai non hanno più alcuna credibilità dopo il partito gollista non ce l'ha più dopo Sarkozy il partito socialista non ce l'ha più dopo Hollande fondamentalmente sono due personaggi assolutamente allucinanti sotto ogni punto di vista e come come frenare questa deriva questa 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 ondata del front nazionale creiamo ex novo un partito attorno a un personaggio che era un signor nessuno fondamentalmente per larghissima parte dei francesi ma che come dicevi giustamente tu aveva svolto incarichi di rilievo nella banca Rothschild e aveva era passato anche per quei ruoli di funzionario la burocrazia statale li costruiamo attorno a questo personaggio un partito a marche eccetera che sempre con la solita logica di non non possiamo permettere ai fascisti di arrivare al potere e Macron ha vinto con questo con questo meccanismo mentre però si assisteva a un fenomeno un aumento molto consistente dell'astensionismo che per un paese come la Francia non è una cosa esattamente normale quindi eh Macron è stato un po' il punto di coagulo di questo di questo sistema se non che Macron si è rivelato funzionale a un progetto politico secondo me è a tutte diciamo ai dei mandanti al di fuori della Francia perché Macron cosa ha fatto? Macron ha colpito ha minato le fondamenta del potere francese che sono per l'appunto le burocrazia pubbliche e le forze armate e gli apparati di intelligence fondamentalmente ha fatto ha sferrato una guerra senza quartiere a questi settori li ha definanziati li ha discreditati delegittimati e privati di buona parte dei finanziamenti e questo perché per creare una nuova elite del potere che garantisca la saldatura della Francia un discorso completamente nuovo cioè la Francia nonostante tutto e nonostante tutti sappiamo che sono questi stati profondi che mantengono il paese orientato in certe direzioni la Francia è stato sempre un paese atlantista sui generis perché ha sempre mantenuto la propria dimensione imperiale e quindi ha sempre tenuto a distinguere le proprie posizioni i propri interessi da quegli statunitensi anzi si sempre ha sempre cercato di imporre se stessa come un punto di riferimento per gli europei che con che ci fungesse da contraltare rispetto agli americani all'interno dell'alleanza atlantica ricordiamo che con de gol ci fu il pulmine de gol che ordina l'uscita del comando della Francia dal comando integrato della nato de gol che riconosce per primo la repubblica popolare cinese de gol che prende posizione nettamente contro israele insomma de gol che crea la force de frappe è la bomba atomica francese e farina del sacco di de gol de gol che aveva c'era creato c'era aveva acquisito grande prestigio e credibilità del ruolo che aveva svolto durante la seconda guerra mondiale era stato lui a sostanzialmente a dire che non poter la francia dove non doveva in tutti i costi resistere alla all'ondata nazista eccetera 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 però con de gol il che fu anche poi ricordiamo ruolo che svolse rispetto all'abbattimento del diciamo del degli accordi di bretton woods fondamentalmente che il gol del se in standard fu de gol che inviò dollar navi cariche di dollari negli stati uniti per chiedere la conversione in oro e quello portò nixon poi a sganciare il dollaro dall'oro a ripudiare unilateralmente gli accordi di bretton woods cioè questi episodi eclatanti che manifestavano una francia sovrana unico uno dei pochi paesi europei non avere base americana sul suo territorio ecco di tutto questo non è rimasto nulla assolutamente nulla e macron è proprio il sicario il portatore di questo progetto di annullamento di qualsiasi spirito gollista che era rimasto all'interno del paese interessante questa sottolineatura che fai del salto di qualità rappresentato da macron proprio perché mi verrebbe da dire che da una parte macron sta diciamo camminando su una fune nel senso che viene da un mondo che lui sta cercando in realtà di depotenziare per arrivare però dove è qui che si creano quelle forti resistenze popolari soprattutto a destra un po' meno forse a sinistra meno nel senso come efficacia perché malanchon insomma mi sembra almeno a mio giudizio si sia rivelato sotto le aspettative ecco mettiamola così e in ogni caso quello che in italia viene paventato come un pericolo che in italia non esiste ma neanche in francia del rosso brunismo c'è della saldatura fra le estreme questa è fanta politica ecco semmai qua ti chiedo solo un'ultima battuta poi passiamo a una proiezione più globale della francia semmai forse potremmo dire che diciamo quel se riesce l'operazione bardellà l'alepen potrebbe essere un'arma a doppio taglio e qui sta il calcolo di macron cioè il fatto di lanciare per la prima volta gli odiati gli ostracizzati le penisti al governo per però metterli sulla graticola perché ricordiamoci che fra un po di mesi bisogna prendere decisioni piuttosto dure sul debito insomma sulla finanza francese e in prospettiva appunto si può creare quel tentare di ricreare quel cordone sanitario attorno e riaprire i giochi ma con una finalità appunto che dicevi tu è più nascosta di quello che sembra cioè quello appunto di ribaltare o meglio di cambiare di segno ecco il sistema di potere francese per eh atlantizzarlo eh globalizzarlo eh desovranizzarlo ancora di più di quello che oggi è è corretto questo è un ma secondo te è un calcolo quello di macron è un azzardo o è un rischio calcolato indubbiamente è un azzardo perché però ci sta cioè il discorso suo secondo me è questo io ormai ho pagato sto pagando delle delle scelte che mi aspettavo fossero più vincenti invece sono rivelati fallimentari quindi per cercare di salvare il salvabile cosa posso fare benissimo volete governare ecco governate quindi governate in un momento in cui di estrema difficoltà quindi sicuramente al chi chi stravincerà l'assemblea nazionale con quella l'accordo con una parte dei gollisti eccetera vinceranno e dovranno hanno l'onere di governare in una fase così difficile e dovranno prendere probabilmente delle decisioni assolutamente impopolari questo in vista delle prossime presidenziali avranno impatto perché perché eh sappiamo come funziona il sistema francese no? Eh sì macron in qualità di presidente per esempio ha una capacità di definire gli orientamenti in materia di politica estera soprattutto ma politica interna e quella economica sono invece più appennaggio del governo e quindi nel momento in cui il governo dovesse assumere queste decisioni Macron potrebbe tirarsi indietro e scaricare la colpa su di loro e quindi questo è un unesimo tentativo di addomesticamento perché questo avrà due effetti per un verso eh inimicherà all'assemblea nazionale parte della della popolarità cioè naturalmente del favore popolare questo è fuori di dubbio e dall'altro comunque lo instraderà negli ambiti che contano per la prima volta eh i redi del fronte nazionale saranno costretti a entrare nelle stanze dei bottoni e quindi e con tutto ciò che ne comporta in termini di temperamento delle loro posizioni radicali iniziali eh quindi usciamo dall'Unione Europea adottiamo misure eh di gran lunga più stringente nei confronti degli migrazioni eccetera 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 adesso entrate nella stanza dei bottoni e vedete quanto sarà facile eh farle entrare concretamente in vigore queste queste misure non ci riuscirete e quindi questo porterà acqua al mio mulino questo secondo me è il calcolo di Macron che la vecchia tattica dei dei liberali è quello di normalizzare no i i pericoli estremisti solo che in un contesto globalizzato come oggi viene più facile ecco in passato veniva più difficile perché pensiamo a esempi insomma eclatanti come i fascismi degli anni venti e trenta lì ai liberali non riuscì la cosa comunque Francia nel contesto globale però attenzione quindi non più europeo non più solo europeo mettiamola così ma globale tu prima parlavi ancora di una di un piglio di una così ambizione imperiale eh anche per il fatto che hanno ancora delle colonie oltremare però c'è proprio un protagonismo una ricerca di protagonismo si pensi ad esempio a quello di Macron sull'Ucraina eh o quello più ancora più fattivo direi su Libia per esempio rovesciamento di Gheddafi nel 2011 no aiuti militari eccetera ecco eh anche qua secondo te la Francia ehm che che gioco che che gioco svolge nella reale effettivo nello scacchiere internazionale cioè al di là delle eh così della grandeur appunto come dicevo all'inizio sbandierata o per meglio dire così rivendicata ancora da da Macron o anche scusami mi mi permetto mi permetto di dire o anche forse dalla dalla le pen cioè eh se poniamo nello scenario che ci ci sia a breve un capo del governo eh le penista eh cioè questa eh questa ambizione di di essere ancora grande potenza eh sarebbe declinata nello stesso modo ci sarebbe invece modello Trump un'attenzione maggiore all'interno e al continente europeo piuttosto che a agli scacchieri globali e quindi intercontinentali ma io direi anzitutto che la le pen secondo me sta facendo un processo evolutivo simile a quello del di Giorgia Meloni cioè che da posizioni inizialmente diciamo dissonanti rispetto al coro univoco eh sta approdando invece su su posizioni su su diciamo sta allineandosi gradualmente ma in maniera molto vistosa e questo potrebbe preludere a una sua entrata per l'appunto anche alla presidenza per un futuro cioè praticamente potrebbero sdoganarle quindi normalizzare eh alla fine dei giochi anche l'assemblement nazionale alla fine e questo sarebbe proprio la ciliegina sulla torta da questo punto di vista ma la Francia dal punto di vista globale gioca un giocherebbe un ruolo importante perché come dicevo come dicevo ha delle colonie ancora formalmente in Africa ma alla sua declina la sua dimensione imperiale il suo piglio imperiale ormai viene contestato in maniera sempre più dura da tutte da tutti i paesi emergenti noi abbiamo visto che l'area africana dei diciamo di pertinenza francese storicamente è stata interessata da una serie di colpi di stato che sono culminati tutti con la cacciata del personale francese in alcuni casi anche dell'ambasciatore francese e con la diciamo la sottoscrizione di accordi con militari con i russi economici con i cinesi quindi buona parte dell'Africa sta andando in quella direzione e la cosa è particolarmente allarmante non soltanto per la Francia in sé perché sappiamo che la Francia per esempio ha delle centrali nucleari che funzionano in buona parte grazie alle forniture di uranio del Niger il Niger è stato un paese che ha dato il ben servito ai francesi e agli americani e cosa ha fatto però ha chiamato i russi e ha mantenuto una presenza militare italiana gli italiani nonostante tutto sono ancora accettati in buona parte dell'Africa e siccome nella diciamo nella ripartizione del mondo che va configurandosi caratterizzata da una segmentazione della globalizzazione in blocchi molto meno comunicanti rispetto al passato un sistema in cui per esempio l'Occidente dovrà dotarsi di proprie catene di approvvigionamento basato su paesi considerati amici affidabili e in quest'ottica se la Francia viene cacciata via in malo modo e percepita come nemica da buona parte dell'Africa che è uno dei principali posti in gioco del mondo multipolare in cui ci stiamo avviando la Francia può anche essere messa alla porta e gli Stati Uniti potrebbero fare invece affidamento più sull'Italia proprio perché l'Italia riscuote comunque una tolleranza è meglio tollerata rispetto alla Francia in quelle zone così importanti quindi la Francia avrà ulteriori difficoltà in tutto questo perché sta perdendo visibilmente l'appoggio statunitense in quelle aree e questo è il fatto che la diciamo l'influenza francese sia stata soppiantata da quella russa in quelle aree credo che spieghi contribuisca a spiegare le prese di posizione di Macron in relazione al conflitto russo-ucraino prese di posizioni assolutamente ridicole che secondo me hanno contribuito non poco all'esito di queste elezioni questa debacle gigantesca che ha subito nel momento in cui si profila la possibilità di inviare truppe francesi che ci sono già lo sappiamo ma ci sono in maniera ufficiosa formalmente per compiti diciamo di addestramento del personale ucraino all'utilizzo di missili come gli Scalp che sono missili che devono essere guidati senza gli struttori francesi è molto difficile che questo possa possa verificarsi e quindi questa questa alzata di ingegno di Macron rappresentava un tentativo diciamo di accreditarsi come punto di riferimento per un'europa che ancora fa sentire la sua voce in seno all'alleanza atlantica che invece viene percepita da tutti come sostanzialmente a un'esclusiva guida statunitense credo sia stato un questo è il discorso il tentativo di Macron per cari di riabilitarsi e riaccreditarsi di costruirsi una una reputazione diciamo di credibilità di se non all'interno della popolazione che quella l'ha persa all'interno del diciamo del grande consenso atlantista in cui le posizioni dominanti sembrano essere rappresentate da paesi come dicevo prima come la polonia i paesi baltici eccetera quindi se Macron si si accredita come rappresentanti in toto di punto di riferimento dell'europa atlantista per gli americani addirittura se ne esce dicendo offrirò la Francia offre e mette a disposizione il proprio ombrello nucleare di tutta l'Europa quasi cercando di scavalcare gli americani in gioco mi pare che sia abbastanza chiaro Macron cerca di solliticare un po la vena revanchista che ancora scorre della popolazione francese per un verso e far diciamo di auto proporsi come uomo forte agli occhi di buona parte della popolazione europea è un gioco che non ha alcun alcuna possibilità di successo come vediamo guarda se posso fare una chiosa finale prima tu giustamente facevi riferimento ricordavi la figura di de gaulle che centrale nella storia della Francia per lo meno dal secondo dopoguerra interessante perché a parte forse la terza repubblica cioè il periodo che va siamo dalla dalla fine del potere di napoleone terzo fino alla seconda guerra mondiale i francesi hanno sempre dalla monarchia prima napoleone dopo de gaulle successivamente poi figure come bene nel male insomma per esempio hanno sempre avuto delle figure al vertice no che in qualche modo impersonificavano questa questa anima imperiale e universalistica per lo meno formalmente della Francia ecco ma cron mi sembra che stia proprio cambiando dal punto di vista genetico questa 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 natura profonda perché in realtà lui della Francia in quanto popolo gli interessa solo nella misura in cui gli serve come base di potere per fare un discorso di elite transnazionale ecco sì o no proprio una battuta velocissima questa mia interpretazione sì sì credo di sì stia cercando di eradicare qualsiasi vena patriottica dal popolo francese per trasformarsi in per trasformarlo scusate in un popolo globalista e normalizzarlo anche sotto quell'aspetto per comunque un popolo fortemente patriottico rappresenta un po un ostacolo per certe logiche di potere macron proprio conformemente al suo ruolo di agente di determinati ambienti finanziari stato prima rocci quello è in dubbio sta eseguendo quel tipo di lavoro non lo sta eseguendo troppo bene però va bene noi non siamo tifosi di macron come si è capito ringrazio giacomo gabellini per questa approfondimento sulla francia e vi ricordo che stiamo indagando il potere in tutte in tutte insomma in molte delle sue forme sia interne che internazionali a partire dal libro di ibex edizioni potere di guglielmo ferrero e ringrazio gli utenti di ibex e ci vediamo alla prossima ciao giacomo ciao ciao